Tengo il tempo. Allora, Biparte. Biparte è un'impresa sociale, è nata nel 2016, ma viene un po' più da lontano perché nasce da un'attività che porta avanti dal 2009, che come il nome Biparte può suggerire, è promuovere i bilanci partecipativi. Biparte sta per bilancio partecipativo. Quindi diciamo che ha un obiettivo molto specifico, diciamo civico, politico, cioè quello di promuovere questa tipologia di partecipazione per tanti motivi, perché è decisionale, perché è completa dal punto di vista democratico, prevede fasi, prevede ciclicità, prevede istituzioni, prevede regole. Quindi non è un processo partecipativo, diciamo, come dire, convenzionale, spot, ma è, diciamo, potrebbe potenzialmente rappresentare una forma di governance alternativa a quella tradizionale, a quella attuale che conosciamo, di rappresentanza pura. Quindi diciamo che la piattaforma, quindi diciamo che come attività facciamo la parte di consulenza, però poi da un po' di, da molti anni, dal 2012, mi è venuto in mente, 2010, di sviluppare una piattaforma, proprio perché reputavo potesse essere strategico per accelerare questa, diciamo, promozione di questa pratica. E diciamo che la, quella appunto che sto, che vi presento è l'ultima di una serie di, diciamo, di versioni o comunque di piattaforma, perché non so, questo lo direte voi, se è una desidim in miniatura oppure una desidim in low cost, però diciamo, non lo so, perché, come dire, la, la, la progettazione veniva un po' da, prima che conoscessi, questa è l'opportunità di, di conoscere e studiare, anche grazie appunto a Fiorella, perché abbiamo fatto una collaborazione per cinquattro, cinque anni, nel Dipartimento Informatica Civica, quando la mia formazione è più politologica, quindi nasce più che altro dai miei studi di scienza politica. Passati due minuti vado a far rivedere appunto la, il caso, perché è uno dei casi, perché la piattaforma, è una piattaforma multitenance, quindi su biparte.org ci sono le varie, diciamo, esperienze che abbiamo comunque implementato tramite la piattaforma, che è stata sviluppata da pochi anni, quindi in pieno covid, non so se è una fortuna o una sfortuna, però diciamo che ha gli elementi per, diciamo, gli elementi per non tanto fare un bilancio partecipativo, ma fare un processo partecipativo lato senso, quindi ha, diciamo, tutti gli elementi canonici di un, qua non lo so tutti, molti elementi canonici di un processo partecipativo, cioè la raccolta di idee, l'interazione sulle idee, la votazione, la valutazione, eccetera, eccetera. Si struttura su, appunto, su, diciamo, diverse componenti che vedete nel back-end e che sono l'organizzazione che è l'istanza, quindi il contenitore di tutto quello che vedete sopra, poi la gestione utenti, la gestione di contesti che sono, diciamo, delle forme di mappe, diciamo, un alter ego delle tematiche, adesso non guardate le etichette che sono tutte da cambiare, le tematiche, le macro-categorie, i processi, i gruppi e i processi a loro volta sono, diciamo, la componente quella più complessa perché all'interno, perché i processi sono configurabili in fasi, in moduli, mi pare di aver capito come fa DesiDim. Quindi qui dentro, diciamo, dentro un'istanza si possono istanziare infiniti processi, infiniti gruppi, infinite tematiche, infiniti macro-tematiche, eccetera, eccetera. Il processo si può configurare, diciamo, con i dati generali, con dei template che, come dire, copier, che, come dire, fanno una fotografia di un processo e quindi facilitano anche un po' poi la duplicazione e la clusterizzazione poi dei processi, quindi qui vedete un po' di template che stiamo piano piano realizzando e poi la parte di configurazione dove le fasi si aggiungono e si aggiungono i moduli, i moduli possono essere diversi e i moduli possono essere i moduli contenuto e i moduli di voto. Quello che vedete, appunto, è il back-end di Cesano Boscone, che è il caso, appunto, che vi presento in pochissimi minuti. Quindi, semplicemente... Ci sono più soldi di Vignola, comunque, eh? Eh, ma però la differenza di Vignola è che Cesano l'ha fatto un anno solo, mentre Vignola è costante e questo, secondo me, vale di più del budget, perché questo porta, dal punto di vista metodologico, porta a vedere il bilancio partecipativo come una lotteria, cioè oggi vinco, chissà domani. Nel caso di Vignola, mi confermeranno Pares, immagino che si crei più una mentalità civica, un senso civico, perché... No, si costruisce una politica. Eh, si costruisce una politica, si costruisce una comunità, si costruisce una mentalità, si costruiscono un sacco di cose. Invece così si costruisce una bella piattaforma, magari una bella iniziativa, perché comunque è stata una bella iniziativa. Quello che vedete è praticamente la parte front-end di quello che poi si fa principalmente in back-end, cioè pagine HTML che permettono, come dire, anche un po' una personalizzazione meno legata a dei, diciamo, dei blocchi di configurazione di back-end. Quindi questa è una pagina semplicemente in HTML, la puoi costruire come vuoi, quindi questo permette anche un po' di gestire l'informazione in maniera più accattivante, un po' più usabile, diciamo. Mentre qui, questi sono tutti pagine statiche che se ne possono creare fino a 5 e stanno sotto un menu e sono abbastanza standard, non hanno etichette configurabili. E poi la parte, quella che mi piace di più, perché questo è la parte, mi piace di più, ma è quella che viene utilizzata chiaramente di meno, cioè la parte di community dove si vede, diciamo, in lato front-end la gestione dei gruppi lato back-end e poi chi in qualche modo vuole pubblicare il proprio profilo, ne vedete pochissimi, e dove si possono distinguere poi i membri del coordinamento, si possono distinguere appunto i proponenti, si possono distinguere i tecnici, si possono distinguere appunto da tutti gli altri che hanno dei ruoli dentro un processo partecipativo, tra cui questi tecnici che vedete senza immagine perché è stato la, come dire, uno sforzo ciclobico quantomeno a far mettere nome e cognome per poi fargli gestire la, diciamo, la valutazione delle proposte in chiaro. Il processo è quello che avete visto nel back-end, lo vedete poi raffigurato in questo modo qui, molto, diciamo, molto grafico come notate, no? Però, diciamo, i moduli sono pressoché gli stessi, all'interno dei moduli poi ci sono le configurazioni, per esempio nella prima fase che noi chiamiamo di proposta e di supporto, è una fase in cui i cittadini caricano le proposte e poi si fa una raccolta di like e poi attraverso l'ordinamento per like si scelgono, si valutano, si portano avanti le proposte, come dire, che hanno una comunità più ampia. Questa è una scelta più che altro metodologica, non è tecnologica, la parte tecnologica semplicemente la supporta con i follow, no? Quindi questa, vi faccio vedere questa proposta, scusate ma c'ho la barra di zoom che mi ostacola. La puoi spostare, se vuoi. Eh, lo so, ma dove la sposti poi ti vuole qualcosa, quindi la dovrei minimizzare, ma non so come si fa, per cui vabbè vado avanti, così cerco di essere veloce. Quindi queste praticamente le proposte hanno la possibilità di essere, diciamo, sintetizzate in una schedina iniziale, poi approfondite con dei contenuti più estesi, quindi senza limiti di carattere e con un editing di testo più ricco, caricare materiali e immagini, qui ce ne sono, possono essere scaricati e visualizzati, le tematiche per poi raccoglierle in cluster quando poi si filtrano, la mappa, la localizzazione e questa è la parte poi di community, che sarebbero poi in questo caso, sarebbero quelli che hanno votato, supportato la proposta, tutti con account privati fin quando non decidono di renderli pubblici, commenti e queste sono le valutazioni, cioè utenti a cui da back-end sono stati dati i ruoli di esperti e che possono o fare una valutazione finale, qui vedete soltanto la valutazione finale, oppure delle valutazioni di dettaglio, qualora magari un processo partecipativo potesse averne più di uno di esperto e quindi in qualche modo una commissione dove poi c'è un valutatore finale che stabilisce se la proposta è ammessa o non è ammessa. Valutazione, velocissimo, scusatemi. Si vede se la proposta è ammessa o non è ammessa? Come? Ok. La parte poi di la fase 2 di coprogettazione utilizza poi la componente del versioning, dove, qui l'avevo prespescata, dove, scusate, prendo questa proposta qui, dove di fatto l'utente ha la possibilità di sovrascrivere la proposta originale che è stata importata dalla fase 1 alla fase 2 e pubblica la nuova versione che poi viene valutata a sua volta dal tecnico. Quindi la valutazione si fa versione su versione proprio per fare in modo, nelle sperimentazioni che ancora abbiamo avuto modo di fare, di dare al proponente la possibilità di raccogliere i commenti, le valutazioni, fare una nuova versione, raccogliere nuovi commenti e nuove versioni. Questa è l'utilità del versioning, dove poi la parte poi di, diciamo, di statistiche, che qui non ci sono, perché non ci sono interazioni, poi viene repirogata. Votazione finale, votazione classica, non si stava lì ad spiegarla, se non per il, diciamo, l'account autenticato, non tramite speed, perché non siamo riusciti ad implementarlo, ma con autenticazione tramite cellulare e codice fiscale, verifica del codice fiscale, votazione semplicissima, perché si può votare anche senza l'inserimento degli email, quindi inserendo subito il codice, il subito il cellulare, quindi anche, diciamo, la possibilità di utilizzare la piattaforma per strada, nei banchetti, e graduatoria, graduatoria con, finito lì. L'ultima cosa che stiamo implementando è, che speriamo poi di trovare anche un caso che ci permetta di testarlo, è l'integrazione con la piattaforma di crowdfunding di Produzioni dal Basso, con cui abbiamo fatto uno scambio di API, per cui possiamo gestire non la donazione su Produzioni dal Basso, ma quantomeno la visualizzazione in tempo immediato, come l'API, dei soldi che vengono raccolti da quel progetto, e quindi anche fare delle graduatorie ibride di voto e budget.